Nell'ultimo episodio off-screen di Pokémon versione Lavandonia E allora, non sapendo effettivamente cosa fare nel gioco, siamo andati ad esplorare l'isola di Spumarine Dove c'era una Crobat con la mossa Stupire Sì, perché ha tradotto sgumento con Stupire Già, siamo poi andati ad affrontare Koga e abbiamo vinto per un soffio perché Per il rivitalizzante Max in inizio gioco Avendo bisogno di un Pokémon capace di usare il serve, siamo andati in una ghetta e abbiamo pescato un Globo Izer Che abbiamo chiamato PPDD per ovvi motivi Siamo poi tornati nelle esole Spumarine dove abbiamo catturato un nuovo membro del team Ovvero Dugonga Che però non possiamo evolvere perché quanto pare le evoluzioni sono buggate Ma la ciliegina sulla torta E' stato quando nella Via Vittoria Si è buggata l'animazione di Dropulsar E sapete una cosa? Non l'avevo salvato Gne 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 Che bella visuale Ancora dove siamo? Ah siamo tornati sul percorso con le scritte L'acqua di colore blu Punto punto vuoi usare il serve? No Voglio vedere se hai messo qualcosa magari che ne so Missingno nell'acqua No spero di no L'avrei già ammazzato Andiamo invece a dare il pacco Ah dobbiamo dargli il pacco È una cosa come dire molto ambigua Come sta il mio pokemon? Hai scoperto qualcosa? No ma ho un pacco per te È l'inizio di un film porno Di cosa si tratta? Up deliver sock parcel Ok Ah sono le medicine per i pazienti Grazie No no Secondo Il giro è pieno di pazzi You don't say Oh bene è una richiesta per voi Cioè è pieno di pazzi Ah è una richiesta per voi Sto scoprendo una nuova medicina Mi servono tutte le informazioni sui pokemon Così avrò le idee Pie chiare Adesso vi parlo della vostra vera missione Quindi il poketex era una menzogna Esatto Sta succedendo qualcosa alla vandonia Papa Si chiama pokemon versione la vandonia Vedi tu In giro non si vede pie nessuno E piove da giorni ormai Freccia tagliata Sì Dovrete andare alla vandonia ad indagare Ok Halp down No non sono down Cosa Esatto Biancavilla è molto distante Quindi per adesso siamo salvi Ma le vostre famiglie Sono in pericolo Ve ne rendete conto Ma non è vero Le nostre famiglie sono qua Esatto Farò per mia sorella And time coming A proposito Mia sorella possiede una mappa della regione Va a prenderla se ti serve La puoi trovare a casa mia Beh fin qua Bene Saci difficoltà E sua sorella è morta È davvero questa la mia missione? Non lo so È Daisy di Super Mario Wow Ora abbiamo una mappa Sta attento Ok Zona Safari Io direi Andrei a Reyanone No no Io faccio crescere swag fino al 30 E Dugonga Dugonga non possiamo evolverla Ti ricordi? Ah shite Se no crasha il gioco No 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 Adesso Sai cosa si fa? Si fa? Si fa a esplorare quella casa di merda Veradiamo al suolo questa merda di casa No adesso voglio vedere se c'è Se posso far No non posso Si posso Ma poi il colore è blu Posso Come mai? Così accanto E qui no Cioè sto premendo ma qua Vabbè Mistero risolto Dettagli Forse riusciremo a risolvere il mistero di lavandonia Non è vero niente Un cartello Vediamo Ex pista ciclabile Fin qua Non ci piove Infatti Infatti c'è nebbia C'è scritto qualcosa La pista è inondata da un pokemon E come ha fatto a scrivere il cartello? Boh L'hot twist Save state please Ci sarà un pokemon Cos'è quest'isola quadrata? È rettangolare Minecraft fan ovviamente Alp Il colore è blu Ancora ma Bene Leggiamo Inizio ad avere paura Perché devi pagare un cartello? Sul cartello non c'è scritto niente E lui parla Aiuto per allenatori Ogni pokemon è diverso dall'altro Sciogli la tua squadra con Ma dai Ma se abbiamo caramella era infinita Cosa ci serve? Puoi trovare un cartello a terra Questo can cartello originale Della pista ciclabile Aie 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 Appare mi signo selvatico No vabbè Ma povero mi Povero spirito No io ma è così brutto Che non lo catturo nemmeno L'acqua di colore è blu Yeah Stay stay Cosa È quel cosi Siamo arrivati ai Spropponi Scisce Viene L'acqua di colore è blu Poi li frate Ribi riniti l'estercitazione sputti scherzi sputti su come che era sputti scherzi la tors ecco quando cederanno cose se non mi ricordo male c'era un tipo che ti regalava ivi all'ultimo piano era qua non era b che ti dava ivi o ok perchè mi ricordavo questo arceus va bene scusami dovevo farlo era necessario adesso arrivano i moralisti vediamo un po' o almeno questo qua è inserito dugonga me lo tengo però via utonto possiamo livellare ora vedi che tipo ha giudizio cose così no è improbabile cioè hai visto cosa ha fatto con beccandi graffio attacco furia che sarebbe furia però in inglese è fury attack adesso andiamo ah prima di vedere una cosa e spero spero che l'abbia fatto ma il poster era tipo qui vabbè il poster parla la tipa sono scappato da bianca villa sei un seguace di ok ma cosa peccate sta cipa anche una non l'ho ucciso eeeh va bene no va bene un cavolo al 26 e ma sai com'è beccandi e beccandi ha perso contro gang grazie grazie ho assolutamente grappio bastardo dang dang un tempo era una bella ragazza ma anche tu sei un suo esperimento e quindi ah ah